Fotografie, installazioni e video, questi tasselli che vanno a costruire la ricerca artistica di Liyah El Bartana. Artista israeliana è incentrata sull'identità dell'essere umano, la politica e i rituali. Le sue opere, parte di collezioni nei grandi musei e in quelle private, come la Pinol Conlation, esplorano con sottile eleganza il tema dell'appartenenza alla terra di origine, dell'identità nazionale e del ruolo che la memoria collettiva ha nella costituzione di un paese. Fotogrammi di rituali pubblici, folcloristici e militari sono i protagonisti delle prime opere di videoarte, dove suono e manipolazione delle immagini, spesso alterati e distorti, sono parte integrante della sua poetica. E' del 2011 la sua partecipazione alla Biennale di Venezia, in rappresentanza del Padiglione della Polonia, paese al quale è legato il progetto And Europe Will Be Stunned, che esplorava la relazione tra ebraismo e identità nazionale polacca. Grazie a tutti!